Sono stati gli ultimi tre procuratori trasferiti o condannati in un caso, quindi adesso si aspetta la nomina di un altro procuratore a un problema ma anche un dovere importante che è quello di rinnovare questa procura. Certo che il Consiglio Superiore se ne sta occupando e certamente individuerà il soggetto più adatto, più idoneo tenendo conto di quel che è avvenuto finora. Certamente il Ministero della Giustizia provvederà a sviluppare un'ispezione, attraverso l'ispezione comprenderà anche quali sono le basi sulle quali è maturata una situazione come quella che è stata poi rilevata e si farà in modo da impedire che situazioni dello stesso tipo si perpetuino nel tempo ma soprattutto mandando in quel tribunale, in quella procura soggetti che siano effettivamente capaci di ristabilire le regole.